Andiamo a Genova dove l'orchestra del Carlo Felice, diretta da Andrea De Carlo, con la voce del soprano Maria Grazia Schiavi, dedica al patrono, quindi a San Giovanni, la sinfonia dell'oratorio di San Giovanni Battista. Vedremo anche delle immagini bellissime, molto suggestive, proprio della cattedrale di San Lorenzo, dove sono le ceneri del Santo. Quindi partiamo, andiamo a Genova. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.